Bella. Loop Station Instant Cover Episodio 02. Questa notte ero live su Twitch da Andrea Lozzar, lozzazione a rotelle. Stavamo commentando le fasi finali di Sanremo e mi è stato detto che se dopo aver fatto Con la Pesce di Martino e Icomacose non avessi realizzato la cover della band o dell'artista che avesse vinto Sanremo, non sarei stato un artista in senso lato, in senso stretto o una roba del genere. E quindi va da sé che farò questa cosa. La voglio dedicare a tutti quei rocchettari che oggi, barra domani, nei giorni a venire, commenteranno questa vittoria dicendo che loro è un rock liofilizzato, che somiglia a un sacco di altre robe, spiegandogli che sicuramente avesse vinto chiunque altro, avrebbero commentato dicendo che se avessero vinto i Maneskin, al contrario, almeno ci sarebbe stato un po' di rock, rock suonato a Sanremo. Non siete mai contenti. E quindi giusto per farla, invece di rivederla in una versione rock, pensavo di rivederla in una versione trap, dark, soul, hardcore, così da capire che in effetti poteva andarci anche peggio. Grazie a tutti. 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 Buonasera. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.